È un risultato importante, i tempi per la sua realizzazione sono ristretti, questo è stato possibile solo perché le istituzioni a partire dalla regione, dalla provincia, dal comune, va sottolineato il ruolo del comune, è stato un lavoro, è stato un ruolo importantissimo, senza questo non saremmo giunti a questo risultato. La cosa fondamentale è che le istituzioni hanno lavorato in estrema sinergia, anche nei momenti più difficili ce ne sono state in questa vicenda e forse ci saranno ancora. Le istituzioni hanno dimostrato anche nei momenti in cui c'era da prendersi delle responsabilità negative, hanno saputo muoversi insieme, nessuno ha lavorato contro l'altro e questa è stata la base. Credo che questo sia possibile in una realtà come l'Emilia Romagna, che ha una tradizione istituzionale molto forte, forse in altre parti non sarebbe stato possibile.